Ciao ragazzi, sono Alessandro e con me c'è Radio Killer, non so dove, ah lì sotto, in fondo, mi ha fatto un bello scherzetto, mi ha fatto trovare praticamente un albero gigantesco davanti alla porta di casa del giardino No, sono caduto Io l'ho scavato tutto quanto per bene, mi sono fatto le scalette, sono arrivato in cima Ora, lo rubiamo tutto quanto questo No, perché scusa, ci possiamo fare qualcosa di bello E che cosa? Credo una base Eh, possiamo farla qui, sì Una base sull'albero, però non, con tutto questo scale perché può per salirci, mamma mia A parte che le foglie si toglieranno Eh, ci mettiamo la cobblestone Ah, cobblestone, lo facciamo sempre con legno? Sì, 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 sembra, però Non so se c'è farla qua sopra che per salire ci vuole Eh, da ascensore qua Oppure, da ascensore Lo so, provo a 16 Non so se c'è, da ascensore Allora, siamo all'altezza 88 Quarto, eh, so guardate quanti alti Sottolinei? Bo Io qua sono a 87 Ci metto uno Scendiamo a... vediamo Vediamo Che pensa che sono 80 blocchi da salire Tutto a saltare a premere Lo sapevo Ma perché non si prendono queste cose ogni tanto? Queste stanno qui Allora Come si fa a prenderle che non si prendono? Da terra è 69 Bene Ah, speri perché cado Devo cambiare mouse perché Questa è un po' pesata Cosa, perché non si prendono? No Perché si buggano Ah, ecco, infatti Comunque Poi vediamo Lo facciamo più o meno sul tetto della casa Eh? Poi ci saliamo Noi sull'albero Uniamo le due case Capito come che voglio fare? Ah, sì, vuoi riunire le due case Ok Eh, non so se hai fatto caso Guarda Ci sei pure passato l'altro episodio Quindi qualcosa di sano in questa casetta Guarda, in questo? Questa, questa, questa piccola Questa qui? Qualcosa di strano? Sì Ma che cosa? Che c'è la terra? Qualcosa del legno? Eh, non pensavo Se io l'ho detto a me Questa è che non si accorge Ma cosa c'è qua dentro l'erba? Cosa? Fiorellini, erba in questa casetta Ma di chi è? È molto molto abbandonata Oh, che facciamo? Vedi qua Una cosa Continuiamo Ho scorato molto Ho trovato una fonte d'olio La mob farm naturale Ah, perfetto Perché stanno i costi sospesi Allora si fa lo come si creano in mob Eh, io vorrei unire le due case Sì Mi faccio un'ascia Fa, la facciamo Sì Comunque non so se è meglio L'armatura in pelle O in ferro Che abbiamo tutto questo ferro Abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei stack Guarda, io me la sono fatta in pelle Perché Me la sono fatta in pelle Perché avevo Moltissime Cose delle pelle di mucche Però Se Se hai tutti questi stack Comunque non ci facciamo Eh, facciamoci quello in ferro Dai Ho visto che ho trovato Trenta cosa Pringo di Di 32 36 Rubber Eh Rubber sapling Rubber 3 Ok 16 Aspetta Allora, 25 È già un'armatura 19 Aspetta, che vuole prendere giusti giusti Ok, 25 Uno cosa Allora, allora Facciamo Due gambali Uno E uno Due Due Oh Due Ma che c***o Ma è Come se c***o Ma è Ma è Ma è Ma è Trovato un bioma Tutto rosso Sì Eh Sono tutto rosso Tutto rosso Eh, infatti ho preso un po' di vedere la sua pietra Perché è bella Matti si vedi qua, la faccio vedere Arrivo Aspetta Vedi che ti è rimasto l'armatura L'armatura qui dentro Dove? Nella crafting mia L'armatura? Ma che hai fatto qua dentro? Eh, no perché dovevo cuocere molto materiali Se non dovrò scavare Eh, mi sono Trava Guarda qua quanti api ho trovato Che mi sono portato a 3-4 scoop Mamma mia Benissimo Ah, aspetta L'ho craftato pure un a te Ma di cosa? Ah, scuola Sì L'ho usato Poi guarda qua quanta neve Perché ho trovato un bioma glaciale Sì? In questa Aspetta In questa Guarda tutti quei cobbietti di neve Perché ho trovato un coso glaciale Sì, sì Poi ho preso la clay L'ho fatta in cubetti Per spiegare Per non spiegare spazio Guarda qua Red cobblestone Ma che è? No, questa è la cosa Si chiama diversa Vabbè comunque C'è come se è la cobblestone Però è la cobblestone Allora mi faccio una scia Proprio scia Ah, poi ho trovato un dungeon Però non mi sono salvato le coordinate E ho trovato Aspetta Ho trovato Flast Protection Che è sta cosa? Vieni in questa cesta Leggi in italiano Questa cesta? Sì E cosa hai trovato? Che è sta cosa? Incharted book Eh, leggi Che è stata scritta? Protezione delle esplosioni A livello 4 Ok Comunque è per vedere quanto dura un oggetto Premi F3 più H F3 più H Sì F3 Però poi li ripreme a tutto F3 Perché E si vede nel FPS Comunque vedi che poi se premi è Sulla pala Comunque Tutti i cosi di quarto Durano nel 250 Come sono? Meglio del ferro? Eh, del ferro veramente non l'ho visto Spesso Ah, comunque ho preso Vuoi dell'Ossidiana? Ci sono stato mezz'ora Acqua E piccola di diamante Piccola di diamante Sano Minerali Con quei bei diamantini Che abbiamo trovato Che c***o che abbiamo avuto Allora così Ragazzi veramente Poi ho messo una scessa Oh, è questo con Questo quando l'hai fatto Aspetta a cosa? Ah, spera, mi ricordo come si tratta Vabbè, ci vuole la cosa Sicuramente perché vedo che è scuro di sotto Eh, ci vuole l'Ossidiana Sì Due diamanti Un libro che l'ho preso da te Perché tu l'hai Sì, lo so E poi vedi che ho preso anche Primo, quando ti ho detto Ucciso un endermanno Ah, sì Che hai trovato? Ender per? Eh, uno Una me l'ha troppato Eh, beh, certo Oh, eh, va bene Che facciamo? Allora, aspetta Dovremmo fare con la base E allungare le case Una cosa Che è sto retino? Che cosa serve sto retino? Che ci mi sono trovato un retino dentro casa Qua dentro la casa Quale è il retino? Un retino, cioè Non lo so C'è scritto retino Cosa serve? Ah, il coso delle api Ah, va bene Me lo porto da presto Allora, dai Lo scopettino Lo scopettino Come lo chiami tu No, no, va bene Ok, allora Questa è una cosa Mi tolgo tutte queste cose di armatura Che non mi servono a niente Un pece dobbiamo creare un enchanting book Ok Poi ho trovato pure tre diamanti Se non mi sbaglio Non mi ricordo Allora Comunque vedi che le foglie Non sono sparende No, va bene Va bene Ok Ah, va bene Allora, possiamo fare qualcosa Lasciamolo così Allora, dobbiamo arrivare fino a metà Dobbiamo arrivare a tetto No, dai Allora, possiamo fare lì sopra un qualcosa Sì, ma fino al tetto della casa Però Che non così alto Dai Eh, allora Ah, dai Ci pensiamo dopo Però non andiamo a fare qualche altra cosa Stiamo perdendo tempo così Non basta Vuoviamo iniziare un po' con l'industria Craft Eh, va bene Ok Scorrente Scorrente, dai Sì, se già possiamo craftare qualcosa Sì Allora, vedi che ho trovato tutti quei sampling di rubber Craftaci Eh, mettici gli alberelli Craftati Un film Non ricordo come si chiama Perché ha una mappa tutta bugata Ok Eh, il Quelcosa che succeda La Plastic racing Aspetta che cosa Che devo fare Non ho capito niente Allora, la cessa, la cessa, la cessa, la Allora Mi vuoi craftare Delle 1, 2, 3, le batteri Servetti in redstone copertivo Non te lo dai crafting Ah, e non mi do nemmeno questa cosa E' altrettanto che cosa serve Vabbè, a casa me lo craft Ah, a re e batteri Non mi dai crafting perché Eh, allora, ti serve No, lo dai No, lo dai, perché no Eh, lo so Me lo dai E neanche a me me lo da Guarda, a me lo da A me me lo da Ah, lo da Sì, sì Perché tu forse stai guardando Andare e batteri quella tutta caricata Lo devi vedere Quell'accanto che è quella scarica No, vabbè Io l'avessi detta Non è la Batbox Ah, vabbè Eh, allora Eh Si fa Mi serve il tin L'abbiamo, lo abbiamo Quanto Ecco, quante le devo fare? Io ho batterie? Sì Polverizzate LED Che cos'è? No, vabbè No, stavo portando un'altra cosa Eh, no, per fare due batterie, capito Ah Vabbè Alla servono Eh, ne servono quattro Allora, devo farne? Tre Tre sole e te ne servono Allora, mi serve Tre copper cable Sei di pietra rossa Allora, ti dobbiamo sapere tutto Ah Quante ce ne servono complessivamente? Allora, dodici ingot mi servono Di Di Sei di pietra rossa E tre Cari Aspetta Fai 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 Allora, intanto dodici Dodici Lingotti di tin Mi devi dare Eh, puoi fare Eh, fin In questo senso E puoi fare anche Un electric Un electric Circuit Ok, tanto dammi Eh, tutto qui dentro Ti faccio Le copper cable Le stai facendo? Si, sto facendo Le copper cable Allora, salvo Due per le cose C'è di questi Di In un esempio Ottodici Un lare Dragombo Un lare Su d'estero E Dragombo Io so Che tu lo sai Dragombo Essere non c'è Nuna Che Solo i cari Sono quanti? Ah, per il Fatema Ti servono Tre Tre cavi mi servono No, io già ho preso tutto Mi servono solo i cavi Eh, tre cavi per le batteri Si Eh, aspetta che ti ho il sesto cavo Per L'Electronic Circuit Aspetta Aspetta Tieni Perché otto Scusa Tieni, non lo cavo Per fare l'Electronic Circuit Ah, vabbè Ah, vabbè Ma, 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 vabbè Circuit Tramila Rapport Mettere alla crafting Vedi Sì Metto lì dentro Scusa che canta sempre la canzone di Dragobolo Ma Tramese dentro Dentro alla Raspetable Ah, come era così se non mi sbaglio Un elettronic circuito normale Sì Non lo so, quello che dici tu Se ti servono Eh, dimmi quanti ne vuoi fare Perché io vorrei craftare L'Electronic Circuit L'Electronic Furnace Ah, quindi ne serve Così Facciamo più velocemente Però dimmi come vuoi fatto Anzi, craftane uno solo Uno solo, ok Sì, così facciamo una sola electric E trovo come la Sei copper, due pietre rosse e un ferro raffinato Watermill Watermill Serve un generatore Sì, si deve cuoce Eh, allora Dobbiamo fare molte cose in questo episodio Capito? Sì, sì Che dobbiamo fare Allora No, qua Da due watermill Facciamo Due, quattro Otto watermill Allora Che è che bussa Vai a dormire, vai a dormire Che è notte È notte? Oh, oh C'è un mostro Ma va veramente? Buongiorno Anzi, buonasera Che spada c'hai? Che spada c'hai? Eh, l'ho trovata dentro al costo Dungeon Che è cool che c'hai? Eh, nella towncraft Dura 400 colpi C'hai proprio una proposta Eh beh, quando tu non ci sei ti ti coppi il server No? Sì Eh, io vado a scavare Eh, vabbè, lo so È vero che abbiamo Tieni Te la sto mettendo dentro la project table Cosa? Ok Allora, mi serve tanto ferro Delle fornaci Facciamo così Questa che ci vengono All'elettronica Allora, aspetta Il watermill Cosa serve? Il generatore che serve? Una fornace Mette a cuocere tanto ferro Sì Sì Tanto quanto? Allora, ancora ti dico la quantità esatta Sì Eh, 8 per Allora, 1, 2, 3, 4 8 per 4, 32 pezzi Eh, la rebattere come faceva con la tin Sì Eh, 32 pezzi Quando? 32 pezzi Ma ti serve ferro raffinato? Ah? Sì Ok 32 pezzi Che dobbiamo fare un casino di cose Per lo meno Vai a dormire Vai che facciamo fare giochi Allora Neh, sta piovendo Allora, ci serve anche Come facciamo i cavi? Tutti in La vieni qui? No, vai Devi dare una mano Allora, nel frattempo acqua cuoce Vogliamo unire già la casa Sono 4 Eh, sì Sì, sì Ma come la facciamo? Facciamo una cosa Un'idea Facciamo la porta d'ingresso qui, guarda Cosa sei tu? Eh, io voglio unire tutto Però dobbiamo spostare Ok, no Sono precise Sono precise Non c'è bisogno Tu facciamo l'entrata qui In questo quadretto qui Chiudiamo E questa qua la chiudiamo fino a qui E poi abbattiamo Abbattiamo i muri di dentro E se è tutto Tutto lì Allora, serve cobblestone Eh, ho l'inventato pena Allora Depositiamo un po' di oggetti Oggetti random Metto questi Drop zombie Metto questi Eh, questo Oggetti preziosi Cosa è random Metto Cosa No, avevo delle cose di legno Mi sto ricordando cosa c'ho fatto Cosa Ok, non ho fatto Cosa di legno Ah, no, qua erano Le assi, vabbè, non ti preoccupare Già l'ha fatto Ok Eh Da me a metto Tutti quei sapienti Che fanno gli alberi giganti Perché ho una cesta Ah, beh, prendi Non puoi vedere Dove è Chiudi veloci Ma che viene No, 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 non vengo Non mi interessa Stato Puoi venire già Su quella scassa Io ho messo tante cose Nabbè Da casa casa è più grande Della mia, non è giusto? No, sì, più grande Non è più grande E poi l'hai detto tu che volete Quella che ci posso fare Non è giusto, no? No, non è Ora te la fattisco Non mi fa La metto la rendo sempre così grande Perché Ci serve lo spazio Eh, però se mi daresti una mano Sai com'è? Un momento Sì, pregrate il cavolo Ah, sì Ci abbiamo Sì, sì, un attimo Che sto Sto a fare una cosa È di due cubetti più grande La tua casa Di nuovo Però come facciamo I due cubetti più grandi Ma va Oh, oh Che sta succedendo? Stai spaccando tutte cose Ah, beh, metti in pausa La facciamo off camera Va bene, ok Metto in pausa Ci vediamo dopo Ciao, ciao Ok, abbiamo finito la casa Dove sei, Radio? Eh, se facendo L'ho messo Il chanclova del sopra Abbiamo unificato tutta la casa Faccio vedere da fuori Ah, sopra Sopra, che sono delle slab Sì, vabbè Questo è il mio giardino una volta Ricordate l'albero? Eh, niente Abbiamo messo Abbiamo fatto tutto di coda Abbiamo fatto Diciamo lo smistamento C'è Questo è già il direttore Che era di Di redibile Con il comune Abbiamo sissato Tutte le ceste Abbiamo fatto I troppo mob Da questo lato Eh, towncraft A velenio Aria E varie cose Ah, comunque abbiamo smistato Un po' di materiali Di cose Niente Va bene Ci vediamo Nel prossimo episodio Ragazzi Passate Dalla pagina Facebook Dalla pagina Twitter Lasciate un mi piace Se il video vi è piaciuto Eh Lasciate un commento Se ci volete aiutare Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti E faccio 69 FPS Fissi Perfetto Sempre questo 69 FPS Bene Grazie Da Radekiller Tutto E da Alessandro pure Ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti